Ben ritrovati amici di Marcos Box in questo 44esimo episodio del podcast di Marcos Box. Come avete avuto modo di vedere, o meglio di non ascoltare, la scorsa settimana non c'è stata la puntata del podcast di Marcos Box perché c'erano soltanto due argomenti da discutere all'interno del podcast, quindi ho deciso di saltare e ho deciso quindi di aggiungere carne al fuoco al fine di ottenere una puntata più cicciosa. Meglio, io non posso nemmeno dire aggiungere carne al fuoco a quello che ci pensa perché sono vegetariano quindi dovrei fare un detto tipo aggiungere cavoletti a gustufa, no vabbè, da vegetariano non esce per niente bene. Comunque, non tergiversiamo, iniziamo a parlare dei nostri argomenti inerenti in modo il software libero open source. Questa settimana c'è stato il rilascio di Audacity 2.3.3. Audacity lo conoscete, è un software di montaggio audio e digitale multitraccia, multipiattaforma distribuito con licenza open, tanto apprezzato perché è molto semplice da utilizzare e quindi va benissimo per chi è le prime armi, ma anche per chi non necessita di un software più complesso ma gli serve giusto qualcosina per fare un editing rapido. Lo utilizzo anche io per dire, giusto, per farvi capire la semplicità di questo software. Questa nuova versione va a fare correzioni di bug, ristrutturazione di parte del codice, ci sono state alcune modifiche riguardanti l'effetto di polarizzazione che ora è stato diviso in due effetti e c'è stato un primo rilascio non ufficiale per Catalina. Perché dico rilascio non ufficiale per Catalina? Questa versione non supporta ancora correttamente MacOS Catalina perché non ha ancora raggiunto i requisiti Apple per la notarizzazione. Il team di sviluppo sta comunque lavorando al fine di ottenere la certificazione in concomitanza con il prossimo rilascio di Audacity c'è comunque un workaround che potete utilizzare per poter seguire Audacity 2.3.3 su MacOS Catalina trovate su Marcosbox i link con i dettagli su come poter fare. Questa settimana c'è stata anche un'altra notizia interessante che riguarda invece una distro, una distro cinese che è tanto amata e odiata odiata perché per i soliti problemi, o meglio per i soliti... perché non sono problemi, non sono nemmeno dicerie per le solite menate di alcuni che hanno paura che questa distro possa essere uno spyware cinese come se fosse possibile perché sapete bene D-PIN, da visto di cui sto parlando è una distribuzione, sì, cinese sì, è collegata ad ambienti governativi cinesi ma è pur sempre codice libero, codice aperto quindi eventuali problemi, eventuali violazioni della privacy eventuali criticità possono essere portate allo scoperto come è successo per esempio in passato dove c'era questo problema connesso al D-PIN Store che utilizzava dei dati, passava per dei server cinesi l'equivalente di Google Analytics per capire un po' per farvi capire com'era la faccenda per poter avere informazioni su Parco installato, su Parco Software problemi che poi sono stati risolti ma sono stati anche sgamati proprio perché in virtù del fatto che tutto oggi è libero è liberamente analizzabile ci sono tanti occhi da sopra quindi si possono eventualmente individuare subito queste anomalie c'è anche da dire che se non vi piace D-PIN potete utilizzare comunque D-PIN desktop environment di desktop environment di D-PIN Linux anche su altre distribuzioni perché ad esempio è possibile utilizzarlo su Fedora ufficialmente è possibile utilizzarlo su Manjaro che ha una spin, una edizione della community dedicata quindi alla fine potete anche odiare D-PIN ma potete amare D-PIN desktop e installarlo dove vi pare fatta questa premessa il team di D-PIN Linux anche questa settimana è tornato a deliziarci con due nuovi video su D-PIN 20 che mostrano le novità della prossima appunto meglio che resi della distro il primo video si concentra sul centro di controllo che viene mostrata l'evoluzione del centro di controllo fra tutte le edizioni della distro e il secondo video riguarda invece un'applicazione di D-PIN desktop environment che è D-PIN Music anche in questo caso l'applicazione è stata riadattata graficamente per integrarsi al meglio con la nuova versione di D-PIN desktop environment quindi è stato un po' svecchiato il tutto è stato un po' migliorato può non piacere questo stile nuovo di D-PIN ma comunque è una ventata d'aria fresca poi non so io ci vedo del grato positivo in D-PIN perché comunque sta portando anche una nuova concezione di come si può evolvere un desktop environment quindi poi mi piace anche il fatto che avendo agganci con istituzioni ma avendo agganci anche con aziende come Huawei che di cui sapete bene qualche mese fa vi ho parlato della possibilità di acquistare alcuni computer con D-PIN Linux preinstallato quindi fa piacere vedere come l'attenzione possa portare a cose buone, cose carine cose diverse all'interno del desktop su Linux perché sapete bene il problema del desktop Linux è un problema annoso, un problema vecchio la diffusione del grato desktop questa distro potrebbe essere un cavallo di troia in senso buono all'interno dei computer degli utenti babbani fatto con le virgolette babbani non l'avete visto ma l'ho fatto in gesto comunque passiamo adesso a un'altra distribuzione passiamo adesso a Mangiaro Gnome qualche settimana fa vi avevo parlato di Layout Switcher un nuovo tool per Mangiaro Gnome tramite il quale è possibile personalizzare con pochi clic del mouse il layout di questa edizione quindi dell'edizione Gnome di Mangiaro ho postato un piccolo video video anteprima di Layout Switcher nella video anteprima vi faccio vedere quali sono le caratteristiche principali di questo tool mi era stato fatto notare che sembrava un po' quello che accade questo tool diciamo così ricordava nelle fattezze grafiche quello che accade su su Zorino S perché su Zorino S c'è un tool simile per cambiare Layout in effetti parte dell'idea era quella poi si è sviluppata diversamente la conferma è arrivata anche da parte di Stefano che è uno dei esponenti principali di Mangiaro e comunque ad ogni modo c'è l'idea è quella di integrarla in Mangiaro L per dare via un selettore di preferenze iniziali simile a quanto fa Gnome First Setup il tool che serve all'inizio e quindi a me piace mi piace molti dei Layout sono carini il fatto di poter cambiare il volo è una cosa molto positiva restiamo sempre in tema di distribuzioni Linux e passiamo a Elementary OS Elementary OS scusate perché mi picchiano dalla regia il team di Elementary OS ha rilasciato la versione 5.1 nome in codice ERA questa nuova mail release è sempre basata su G1 quindi su Ubuntu RTS e quant'altro se avete una precedente installazione potete aggiornare semplicemente la vostra listra e parte di queste migliorie che trovate su questa nuova edizione che avete già potute pre-gustare nel corso dei mesi quali sono le principali novità la schermata di accesso e blocco schermo è stata migliorata è stato aggiunto il supporto HIDPI c'è stato aggiunto una nuova applicazione onboarding che durante il primo avvio della distro ci aiuta a configurare alcune opzioni come i servizi di localizzazione pulizia file modalità notturna e ci consente anche di installare nuove applicazioni altra grande novità è il supporto a Flatpak con la possibilità di installare applicazioni Flatpak da Flatab tramite sideload che è un programma e poi di aggiornare e gestire tutto tramite App Center migliorata anche l'accessibilità alle impostazioni di sistema miglioramenti in quasi tutte le applicazioni e infine visto e considerato che hanno rilasciato una nuova ISO è stato anche aggiornato lo stack hardware dell'ultima Ubuntu LTS l'ultima point release di Ubuntu LTS comunque se volete una panoramica dettagliata andate sul blog trovate i link e trovate anche i link per poterla scaricare sempre in ambito distribuzioni è stata rilasciata la versione beta di Linux Mint 19.3 Tricia Tricia come cacchio si pronuncia non lo so vabbè Top R e c'è sempre il solito discorso Clement Lefebvre ha annunciato appunto il rilascio della versione beta di Linux Mint 19.3 Tricia che in versione stabile arriverà prima di Natale ovviamente tutte e tre le edizioni Cinnamon Mate e XFSA che sono le tre versioni officiali di Linux Mint la novità dell'edizione Cinnamon riguarda l'arrivo di Cinnamon 4.4 che offre diversi miglioramenti e ottimizzazioni generali miglioramenti anche in Nemo i file manager con il quale adesso è possibile configurare quali azioni dovrebbero essere visibili nemmeno contestuali e cose del genere l'edizione con Mate porta Mate 1.22 l'edizione con XFSA porta con sé XFSA 4.14 con tutti i miglioramenti in termini di prestazione ottimizzazione e quant'altro che l'ultima release di XFSA porta con sé comune a tutte quante le edizioni anche in questo caso all'aggiornamento dello stack hardware grafico e quant'altro celluloid che va a sostituire Xplayer come lettore multimediale predefinito Gnote che sostituisce Tomboy come applicazione predefinita per prendere appunti e Drawing che è questo nuovo programma che va a sostituire Gimp come programma preinstallato per l'editing di immagini il Drawing è molto semplice è una specie di paint quindi andatelo a vedere ma lo potete installare anche su altre distribuzioni infine l'ultima notizia della settimana è il rilascio di Firefox 71 novità principale è la decodifica mp3 nativa su tutte e tre le piattaforme quindi Windows macOS e Linux miglioramenti a lockwise il gestore delle password integrato in Firefox che adesso riconosce anche i sottodomini gli avvisi di violazione integrati di Firefox monitor sono disponibili anche per gli utenti che usano lo screen reader le enhanced tracking protection offre adesso maggiori informazioni con notifiche quando Firefox blocca dei crypto miner aggiunge anche il conteggio dei tracker bloccati nel pannello che cliccate sullo scudino quindi si apre la cosina detto così è molto ambiguo infine novità che riguarda soltanto Windows è stata aggiunta la funzionata di picture in picture per i video funziona praticamente sia con i video youtube ma anche con altri servizi di video devo provare con Netflix in effetti non ho provato su quello se funziona anche lì ma comunque è una funzionalità simpatica all'interno del blog comunque trovate anche link con con maggiori informazioni su questa funzionalità bene con questo ho concluso lunga vita e prosperità tutti quanti ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao ciao